Fabio Massimo Castaldo, Vice Presidente del Parlamento Europeo, qui oggi a Consulcesi, una realtà leader dei servizi per il mondo medico in Italia. Sappiamo che per i medici l'Europa ha un significato importante. Tantissimi, appunto parliamo della generazione di diritti negati, quelli che fecero la specializzazione tra il 78 e il 2006 e che non venivano retribuiti adeguatamente. L'Europa, proprio l'Europa con le sue direttive e alcune sentenze anche della Corte, ha stabilito che invece quei medici dovevano essere risarciti. Però ci sono ancora 110.000 cause sospese. Cosa può fare l'Europa per questo? È fondamentale che il Parlamento Europeo si faccia l'atore delle giuste pressioni nei confronti del legislatore italiano e ovviamente dell'esecutivo italiano affinché si dia finalmente piena applicazione a diritti che sono sanciti in modo inequivocabile da parte di direttive europee che sono ahimè da troppi anni, da troppi decenni potrei dire disapplicate. L'obiettivo ovviamente è restituire piena dignità e pieni diritti ai nostri camici bianchi che oggi ancora oggi svolgono con grande senso del dovere la propria professione e rappresentano la spina d'ersale del nostro sistema sanitario e credo da questo punto di vista che una buona soluzione intelligente potrebbe essere la proposta di un accordo transattivo che affronta ovviamente anche di un venire incontro da parte della stessa categoria possa finalmente chiudere questa nostra questione dando certezza del diritto e dando pieno godimento di quelli che ribadisco sono semplicemente diritti maturati in base alla normativa europea. Il Parlamento Europeo non può come organo costringere il Parlamento italiano o l'esecutivo ad agire ma può senz'altro esercitare tutte le pressioni possibili affinché l'Italia finalmente torni ad essere all'altezza di quello che già fanno gli altri paesi europei. Parliamo di un altro confronto che si fa spesso nel mondo medico tra l'Italia e gli altri paesi, quello sulla formazione, sull'aggiornamento continuo. Sappiamo per quanto sia importante per un medico mantenersi aggiornato sulle ultime novità che fortunatamente la tecnica e la scienza mette a disposizione. Su questo anche lì il confronto in tanti paesi diciamo ci sono meccanismi premiali e sappiamo che l'Europa proprio sulla formazione professionale insiste molto su questo. È fondamentale, non si può pensare che chi si è laureato 20 o 25 anni fa continui ad operare e ad agire seguendo le stesse tecniche con le quali si era formato al momento appunto dei propri studi universitari. È fondamentale quindi continuare a interagire con il mondo della ricerca, con il mondo della formazione affinché le migliori tecniche, le best practices attuali siano costantemente alla portata di chi opera quotidianamente in campo sanitario. E allora l'Italia deve ovviamente mettersi al passo anche qui con gli altri paesi europei, creare un sistema di premi e tra virgolette anche di penalità per coloro che non vogliono seguire questo percorso. Ricordo già che la legislazione europea, raccomandazioni importanti derivanti dalla Commissione già prescrivono questo. L'Italia ahimè ha fatto fatica a mettersi al passo è il momento assolutamente di farlo perché ne va da un lato della professionalità e anche della tutela dei diritti dei nostri camici bianchi, dei nostri dottori, ma dall'altro ne va ovviamente della salute dei pazienti. È una classica lose-lose situation che può diventare una win-win situation. Basta volerlo e basta mettere in condizioni ovviamente chi vuole cimentarsi come giusto che sia di non dover affrontare una sfida titanica ma di essere aiutato e spinto dal sistema a fare la cosa giusta. Credo quindi che un saggio sistema di incentivi e di disincentivi possa essere la strada giusta per aprire ovviamente finalmente uno speraglio concreto che ci riporti anche qui all'altezza dei migliori standard degli altri paesi europei che sono benchmark da questo punto di vista.